Anselmo Roveda, buonasera. Buonasera. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle parole per condividere questa piccola storia di Natale. Piccola storia di Natale intitolata Il furto di Natale, un libro pubblicato dalla casa editrice Interlinea con le illustrazioni di Maria Chiara di Giorgio. Ricordo ai nostri ascoltatori che Anselmo Roveda, scrittore, studioso di letteratura, coordinatore del mensile Andersen e qui mi fermo perché gli ascoltatori che non conoscono questa realtà la devono conoscere per forza di cose perché Andersen è un punto di riferimento importante, tra l'altro ogni anno racconta anche il miglior libro con il famoso premio Andersen ed è un appuntamento molto importante, Anselmo Roveda. Sì, è un osservatorio sul panorama della letteratura per ragazzi, attraverso un mensile, quindi una fatica quotidiana, mese per mese raccontare ai nostri lettori e alle nostre lettrici la letteratura per l'infanzia e poi attraverso quell'osservatorio, quelle letture puntuali, attraverso la segnalazione dei molti collaboratori, delle molte collaboratrici arriviamo ogni anno a maggio a individuare una serie di eccellenze, di premia che danno appunto visibilità ulteriore ai libri che abbiamo voglia di condividere, di far condividere alle bambine e ai bambini, ai lettori curiosi di questi libri per bambini e per ragazzi che appunto dentro tengono tanti linguaggi differenti dall'illustrazione al fumetto alla narrativa pura. Eh sì, anche questo libro entra in questo sguardo, in questa attenzione, il furto di Natale con l'illustrazione di Maria Chiara Di Giorgio che ha studiato all'illustrazione all'Istituto Europeo Design di Roma, poi è stata a Parigi, ha pubblicato con molti editori e i suoi lavori sono stati esposti alla mostra di illustratori e qui oltre al premio Andersen andiamo a raccontare un'altra realtà, cioè la Bologna Children's Book Fair, la fiera dei libri per ragazzi come veniva chiamata una volta e adesso entriamo, entriamo in questa storia molto timidamente senza troppo raccontare perché in queste trenta e qualche pagine c'è molto da leggere, molto da vedere. Da cosa nasce questa storia di questo furto di Natale che vede questo orso un po' arrabbiato in copertina con questo ombrello diciamo in mano? Orso è un orso ovviamente ed ha un nome evocativo ma banale orso e anche le caratteristiche che attribuiamo di solito agli orsi, è un po' orso e allora questo personaggio da cui si muove l'azione ha però qualche fastidio verso il periodo natalizio, non ama il periodo ma non ama il giorno di Natale in sé, preferisce appunto un po' un solitario, però gestisce un meraviglioso negozio di dolciumi dove trovare di tutto, ciambelle, sciroppi, panettoni, confetti, le cose più varie e da tutto il mondo. La zampa nel miele. La zampa nel miele, esatto. All'angolo di una via di una grande città che possiamo immaginare essere quella che desideriamo. Io avevo in testa forse le luci di Parigi, forse le luci di New York, comunque una grande città dove come nelle grandi città si incontrano personaggi diversissimi, varissimi, dove convivono da, in questo caso, dagli opossum ai gorilla, dalle giraffe agli orsi per l'appunto. E allora in questa bottega, nel racconto, il racconto è cadenzato attraverso un calendario, attraverso i giorni che ci avvicinano al Natale. Una specie di calendario d'avvento l'ho trovato. Esatto, in qualche modo sì. Vero. Arriviamo poi al giorno di Natale, ma nei giorni precedenti incontriamo i diversi personaggi che vivono il negozio di orso, lo impariamo a conoscere meglio, fino a quando appunto un accadimento, un furto, o meglio un tentativo di furto, ai suoi danni dà il motore invece poi al piccolo meccanismo narrativo che fa sì che questo diventi anche una storia di Natale, non soltanto per il periodo, ma anche proprio per l'intensità dell'intreccio, del far dare la possibilità a orso e agli altri protagonisti di questo racconto di scoprirsi forse un pochino diversi da come si erano immaginati o rappresentati fino a quel momento. Eh sì, perché in queste poche pagine c'è una trasformazione veramente dei personaggi, delle situazioni e quindi possiamo capire anche la tanta umanità che portano queste figure, l'umanità per esempio dell'orso che è vero che sarà orso come noi possiamo definire un carattere, ma in ogni modo ha un cuore che batte e lui è un grande lavoratore perché lavora 363 giorni all'anno, tranne Natale mi pare fino a mezzogiorno e poi a Capodanno resta chiuso, quindi grande innamorato del lavoro, però quando qualche cosa si incrina e c'è questo furto allora tutto può cambiare, perché? Tutto può cambiare perché orso appunto è un gran lavoratore, ma forse dietro anche a questa passione per il lavoro nasconde qualche cosa, forse che appunto è quella componente di carattere che lo fa tenere un po' più riservato, un po' più isolato, ma in realtà è una persona di grande incontro e dico persona, nonostante sia un orso perché appunto come tutti i personaggi poi nascondono in realtà dei tipi che sono fortemente umani e allora l'occasione in questa narrazione, così come penso che sia una delle occasioni che offre il Natale, è fare i conti con la qualità e la quantità dei nostri affetti, di capire e comprendere quanto bene raccogliamo intorno a noi e quanto ne possiamo trasferire agli altri e in questo caso orso appunto, nonostante sia un orso orso, è anche molto amato, è molto amato dai suoi clienti, tant'è che in questo appunto in questa sorta di calendario dell'avvento ciascuno che passa lo prova a invitare un pochino a un suo pezzo di festa di Natale, chi lo invita al brindisi, chi è al taglio del panettone, chi è alla tombola e lui inizialmente appunto un po' scontrosamente dice no, forse ho altro da fare, fino a quando appunto invece le occasioni offerte da questa storia, chi lo sa se per così dire capitolerà, ma non è una parola giusta e cambierà e forse potremmo pensare a un vecchio Scrooge, no no, tutto subito non può pensare allo Scrooge, ma è molto molto diverso questo orso nel libro Il furto di Natale con le illustrazioni di Maria Chiara di Giorgio e come sono nate le illustrazioni che attraversano questa storia Anselmo Roveda? Le illustrazioni sono nate appunto dalla fantasia dell'esto creativo di Maria Chiara di Giorgio che è una grandissima illustratrice e che nel momento in cui questa storia è stata scelta per diventare un libro ho subito immaginato alcuni segni che lo potessero accompagnare e ragionando con l'editore abbiamo proprio pensato che quello di Maria Chiara di Giorgio potesse essere azzeccatissimo e azzeccatissimo lo è diventato poi scorrendo le pagine e gustando queste illustrazioni io ho ritrovato tutto quello che mi immaginavo, quello che gli scrittori fanno, cioè giocano a immaginare mondi che però restano impliciti, vengono raccontati soltanto attraverso la parola, viene affidata l'interpretazione alla lettrice, al lettore e in questo caso anche all'illustratrice e la rappresentazione visiva di questa fittà di animali molto molto umani in questo periodo che li accompagna verso il Natale è proprio molto vicina a quello che avevo in testa quando ho iniziato a scrivere questa storia, c'è un'immagine in cui ci sono questi poliziotti sempre animaleschi, un biottone nelle luci della sera di una grande città un po' appunto in sfondo, in una città dal clima già appunto dicembrino che mi sembra veramente calzantissima quella storia, quelle parole che avevo scelto per raccontare questa storia. Il furto di Natale è un libro che sarebbe bello venisse letto anche ad alta voce, ai piccoli lettori, ai piccoli futuri lettori perché è una storia molto molto coinvolgente e quindi siamo in questi giorni di grandi domande e adesso quale libro posso regalare? Il furto di Natale e scoprirete veramente un'umanità straordinaria, insomma c'è molto divertimento in questo piccolo libro pubblicato dalla casa editrice Interlinea e scritto da Anselmo Roveda ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni sono stati molti e diversi per il lavoro di lettura anche lì per i consigli di atalizi ma in realtà ne vengo da poco da un viaggio in Lituania per lavoro e stavo leggendo di Jan Brocken Anime Baltiche uscito per Iperborea che è un grande racconto del mondo baltico che fa innamorare di quei luoghi e nel mio caso mi consente a posteriore di tornarci un pochino almeno con la lettura. E invece ancora una domanda, visto che siamo sotto Natale, abbiamo parlato del suo libro per bambini, il furto di Natale, vi dice un titolo di un libro che lei ha comprato per fare un regalo a Natale? Un titolo che ho comprato? In realtà è un titolo molto curioso in qualche modo, è un fumetto e sono un cofanetto per uno dei miei figli, per il figlio grande che è un appassionato di Tex, è un cofanetto con la prima storia di Tex rienterpretata da diversi grandi illustratori, quindi un cofanetto con più libri. Abbasso la voce perché è nella stanza accanto. E quindi non dobbiamo ovviamente rovinare la sorpresa ma è sempre molto bello leggere Tex e qui mi sembra ovvio e bello ricordare Sergio Bonelli Editore che è uno dei punti di riferimento dei fumetti di un tempo, però è sbagliato dire un tempo ma in ogni modo è sempre molto importante, è sempre un'attenzione alta quella su Tex Villa, cosa ne pensa? Sì, è una lettura appunto inconsueta per un bambino dell'età di mio figlio ma che è stata incontrata casualmente durante una vacanza in un luogo in cui poco oltre c'era che un edicolo finita le letture che si era portata presso in contatto a Tex Villa è stata una passione che non l'ha più abbandonato e quindi viva quando i ragazzi e le ragazze scelgono anche autonomamente dei loro percorsi di lettura, delle loro passioni. Ma il papà di questo bambino, lei Anselmo Roveda da piccolo, leggeva fumetti? Leggevo fumetti, sì. Leggevo fumetti. E quali? Allora, nella mia generazione, io sono nato negli anni settanta, quindi proprio da molto piccolo, leggevo fumetti, quelli che oggi conosciamo come i supereroi Marvel che all'epoca erano pubblicati in Italia dall'editoriale Corno, che in realtà forse oltre che leggere li usavo proprio per giocare, nel senso che ritagliavo queste figurine, questi personaggi e poi andavo a inventare delle mie ulteriori storie. C'era già uno scrittore? È un dico spesso negli incontri con i ragazzi che gli scrittori e i bambini condividono il giocare dei bambini e l'inventare storie degli scrittori a grandi consonanze. Ci si può permettere di succhiudere gli occhi e immaginare un mondo e mondi molto diversi da quelli che magari stiamo incontrando in quel momento nella realtà fisica. Grazie davvero Anselmo Roleda e buona serata. Grazie, buona serata a voi.